Potenziare e migliorare il turismo accessibile è l'obiettivo dell'accordo sottoscritto dalla cooperativa sociale The Plus Planet e dell'associazione Handy Superabile. Questa collaborazione punta ad offrire a tutte le persone con bisogni speciali vacanze in Toscana senza barriere architettoniche, sia nei luoghi di soggiorno che nelle visite culturali e nei luoghi di divertimento. L'accordo è stato firmato in Regione Toscana alla presenza dell'assessore alle attività produttive, commercio e turismo Stefano Cioffo. È un tassello che va a integrare e in parte a completare un lavoro già importante fatto. Confermiamo che questa deve essere la strada. Gli operatori mostrano tutti una sensibilità forte. È un segno che un salto di qualità anche in termini culturali è stato compreso e le imprese sono disponibili a confrontarsi. La Toscana deve distinguersi per l'eliminazione progressiva delle barriere, per mostrare la qualità attraverso la migliore accessibilità e il superamento di ciò che oggi impedisce il pieno godimento delle nostre spiagge. In uno studio dell'Unione Europea si evidenza che le persone con bisogni speciali in termini di mobilità erano 140 milioni nel 2014, mentre nel 2020 dovrebbero essere 155. L'accordo tra Andy Superabile e The Plus Planet ha come obiettivo quello di favorire soggiorni e attività dei turisti con esigenze speciali, attraverso la creazione di pacchetti e offerte su misura, in Toscana e non solo. Tutte le offerte saranno accessibili dalla piattaforma online di Andy Superabile e dal sito di Assessible Tourism.